Omar, è bello che l'Eagle controlla direttamente il potere dei miei calciatori di acqua, ma gli astrofotografi chiedono noi di automatizzare tutto! Ecco! E' importante calcolare il punto di acqua, cioè la temperatura dove acqua condensano le optiche. Ecco! E poi, automaticamente controlla il potere dei calciatori di acqua, evitando problemi di acqua tutta la notte. Dobbiamo costruire un dispositivo compatto che è facile installare su qualsiasi telescopio! Ecco! Ecco è questo dispositivo compatto e leggero che abbiamo disegnato per l'automatizzazione dei calciatori di acqua connessi con l'Eagle. Ecco può essere installato facilmente su qualsiasi telescopio, da che si connessa ad un calciatori di acqua standard. E' un dispositivo esterno, separato da l'Eagle, perché deve mesurare dati ambientali, come la temperatura, la umidità e la pressione, con questi sensori integrati. Puoi collegare più di tre sensori di temperatura esterni all'Eco e, dall'altra parte, inserisci la temperatura tra il telescopio e la band di acqua che vuoi controllare automaticamente. Comparando le letture di acqua standard con i dati che vengono dai sensori integrati, l'Eco calcolate il punto di vista di acqua e regola automaticamente la potenza dei calciatori di acqua connessi con l'Eagle. L'Eco è un dispositivo semplice per usare plug-and-play. L'Eco viene con un tipo USB-C, connesso con l'Eagle con un cable usb disponibile e pressa l'Eco button in l'Eagle Manager. Ora l'Eco mostra la temperatura alta, la umidità e la pressione. Se l'Eco deteccia che un calciatori di acqua è associato a una proba di temperatura, si prende automaticamente il controllo del calciatori di acqua per mantenere le vostre optiche a una temperatura proprio al punto di vista di acqua, evitando il calciatori di condensare sul tuo telescopio. L'Eco viene con più avanzate, come il controllo di acqua di acqua di acqua e l'ASCOM driver che ti permette di usare con software di terza parte o anche con computer di Windows standard. Tutto questo in un controllo di piuttosto e plug-and-play ambiental computerizzato. Ecco!